C'è un contratto taglia. Fatto lo Royal. C'è un contratto taglia. Sì, prendo io. C'è un bersaglio prioritario. L'obiettivo principale è l'eliminazione dei bersagli. Fico in discesa del mare operativato. La fortuna c'erro io. Disparano. Interzagliano. Intraglietta qui. Ora sei nel Gulag. Lotta per tornare in azione. Puoi provocare i nemici usando le parole. O i sassi. È un ottimo passaterpita. Scontro iniziato. Preparati, sei il prossimo. Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea. Se perdi, sei fuori gioco. Elimina il nemico o conquista l'obiettivo. Flashbang lanciato. Scontro iniziato. Scontro iniziato. Non hai avuto alcuna vita. Sparati a rientrare in azione. In movimento. Compagno in rientro nell'area operativa. Compagno in rientro nell'area operativa. Da questa parte. So che fa male. Resisti! Ho marcato un elicottero. Affermativo. Può avviare un nemico in volo. Cambio posizione. Nemico. Nemico! Come on! ornile in discesa nell'area occhio in alto gas in arrivo zona sicura riposizionata risparano così va meglio vedo movimenti giornata giornata guardano Andate perdendo terreno! Siamo tutti nella zona sicura! Siamo tutti nella zona sicura! Siamo venticinque! 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 venticinque! Siamo venticinque! Siamo venticinque! venticinque! Siamo venticinque! Siamo venticinque! Siamo venticinque! Siamo venticinque! Siamo vent qualcuno! Siamo ventide! A via! Mi sento come ordinato. Sono sottotiro. Granata lanciata. Lancio un fumogeno. L'aria operativa. Cazzo in movimento. Suo fatto sicura individuata. Mi restano meno di cinque. Qui vedo movimento. Cazzo in movimento. Andarsi subito nella zona sicura. Qui vedo movimento. Venite. Qui vedo movimento. Qui vedo movimento. Risparano. ifale. Per. Triuncio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.